Allora ragazzi, la premessa di questa sera è che se siete qui per vedere e sentire, ascoltare l'analisi della partita di Empoli Juventus, l'analisi del risultato, della prestazione, siete sicuramente nel posto sbagliato, non è il video giusto, ecco, perché parlare di calcio credo che sia impossibile, quantomeno per il sottoscritto, quindi almeno, come dire, vi chiedo di rispettare anche questa mia difficoltà, perché credo che la partita di questa sera non sia una partita vera per quanto riguarda la Juventus, non voglio togliere meriti all'Empoli, ma questa sera l'Empoli giocava contro dei fantasmi ed è normale che sia così, perché quest'anno, quantomeno in Serie A, parlare di calcio è stato veramente possibile fino a dicembre, poi dopo assolutamente in nulla, assolutamente impossibile riuscire a parlare di pallone e riuscire a parlare di calcio, che di fatto è solamente quello che noi tifosi chiediamo, perché è il motivo per cui ci sediamo sul divano alla sera, il fatto è di vedere la partita di calcio, oltre che di fare la propria squadra. Io ragazzi il vuoto che ho sentito, quella sensazione di svuotamento che ho sentito mentre ero in macchina, rientrando da lavoro, leggendo la notifica della penalizzazione, arrivata a un quarto d'ora dall'inizio, dal fisco d'inizio di Empoli-Juventus, non posso spiegarvela, ma probabilmente la stessa che avete avvertito voi, magari qualcuna l'ha avvertita anche mesi fa, io questa sera ho detto, quasi quasi stasera non guardo neanche la partita, avevo quasi questa tentazione qua, tanto mi sono stufato anche di essere preso per il culo da parte anche delle istituzioni che anche come tempismo scelgono veramente di umiliarti da capo a fondo, dalla testa ai piedi, anche nel tempismo, anche nella scelta della comunicazione decidono di umiliarti e di prenderti per il culo da questo punto di vista e per cui di fronte a un'umiliazione di questo tipo, la mia prima reazione così istantanea, spontanea è stata quella di dire basta stasera non guardo la partita perché no, perché non è possibile, perché in un qualche modo devo reagire, invece comunque ho avuto il coraggio e la forza di guardare la partita ed è finita come credo tutti ci aspettavamo, io onestamente ragazzi credo che quello che è accaduto questa stagione è stato veramente assurdo ed è stato veramente surreale sotto certi punti di vista perché qui non si tratta neanche di come dire punire sportivamente, qui si tratta proprio di punire anche umanamente, cioè stiamo comunque parlando al di là dei privilegi che possono avere i calciatori, al di là dei privilegi che possa avere l'allenatore, al di là dei privilegi che possono avere le figure che lavorano nel mondo del calcio ma qua si tratta veramente anche di prendere in giro, avere poco rispetto per chi comunque esercita il proprio mestiere perché io sfido chiunque dall'artigiano allo sviluppatore, al programmatore, io sfido chiunque a lavorare in condizioni di questo tipo e a cercare degli stimoli anche per migliorare, per raggiungere gli obiettivi in condizioni di questo tipo quando tu sai che il tuo lavoro è totalmente dipendente dalla sentenza di enti e di istituzioni extracampo che magari ci entrano anche poco con quello che devi fare tu e soprattutto sei tu a rimetterci in un contesto in cui tu comunque vieni punito anche per fatti commessi da altri in cui tra l'altro la pena sportiva di questo famoso articolo 4 è stata tirata fuori anche veramente in modo abbastanza bizzarro, ma di questo ne abbiamo già parlato tra l'altro per usare un eufemismo, però onestamente ragazzi il modo, il trattamento che è stato riservato alla Juventus è veramente strano è veramente strano e bisogna veramente sforzarsi a mandarlo giù io ho volutamente, e mi scuso anche per il ritardo di questo video, ma ho appositamente aspettato Allegri ai microfoni di Dazon per sentire quello che aveva da dire e per capire se poteva in un qualche modo anche lui sbottonarsi un po' che generalmente cerca sempre di essere molto rigido, molto impassibile, molto freddo anche di fronte a questi avvenimenti ed effettivamente stasera ragazzi anche lui è crollato, è crollato ma umanamente parlando è crollato perché ha detto mettiamo fine a questo circo qua, cioè mettiamo fine ad una questione che semplicemente fateci capire di che morte dobbiamo morire e poi dopo da lì cerchiamo di ripartire e poi dopo saranno cazzi nostri ma almeno creiamo questa situazione perché rimanere sempre in balia di questi eventi dove davvero la sensazione è quella di ti do un punto in più rispetto a quelli che tu fai sul campo, ti do i punti giusti per cercare di farti uscire, cioè quelli che servono effettivamente per punirti piuttosto che dire ragiono sulla base del diritto ragiono sulla base della legge applicando quelle che sono le regole, applicando quella che è la legge cioè il concetto è veramente questo, il concetto è veramente questo, allora quando tu sei in balia di un processo di questo tipo come fai a performare, come fai a giocare? Io non voglio assolvere Allegri e la squadra da questa stagione da zero titoli tutt'altro, perché i problemi ci sono stati, possiamo parlare all'infinito di Inter-Juventus, semifinale di Coppa Italia possiamo parlare di Sibiglia-Juventus tra andate e ritorno con due prestazioni brutte con due prestazioni brutte proprio anche da un punto di vista dell'atteggiamento e del coraggio che hai messo ma per tutto il resto ragazzi da parte mia, da parte mia che non deve essere la vostra, ma da parte mia c'è il massimo rispetto e la massima vicinanza ad un gruppo di persone, persone che quest'anno hanno onorato nel vero senso della parola, dal primo all'ultimo, hanno onorato il loro mestiere e questa maglia che comunque rappresenta una popolazione intera in giro per il mondo e il fatto che l'abbiano fatto fino ad oggi, dove oggi sono giustamente crollati perché a un quarto d'ora, dall'inizio della partita, ti tolgono altri dieci punti ti fanno andare fuori dalle competizioni europee, dietro la Roma allora ragazzi, io non posso fare altro che esprimere la mia vicinanza e il mio rispetto a questo gruppo di persone poi c'è tutto il resto poi si parlerà del fatto che Allegri non ha funzionato che sotto un certo punto di vista il suo operato sicuramente è stato fallimentare è stato fallimentare nei risultati è stato fallimentare secondo me da un punto di vista anche economico nella svalutazione di certi giocatori ed è stato probabilmente fallimentare anche da un punto di vista sociale per quella che è stata anche un po' la disaffezione che si è verificata da parte dei tifosi della Juventus nei confronti della squadra non è stato solamente dettato dalle questioni extracampo che sicuramente hanno dato una mazzata incredibile è stato dettato anche dalle cattive prestazioni dai cattivi risultati e quando tu fallisci in queste tre sfere ragazzi, allora si può parlare comunque di un fallimento ma non che il tuo lavoro è stato totalmente inutile totalmente da buttare ma semplicemente rispetto a quello che era il target che ci si era prefissati sicuramente si può dire che gli obiettivi non sono stati raggiunti però, e c'è un però grande come una casa c'è un però grande come una casa in una stagione così non si può contestualizzare non si può contestualizzare non si può non contestualizzare in che modo, in che condizioni la Juventus ha giocato perché lo so lo so che la Coppa Italia, l'Europa League, la Champions League sono delle competizioni a parte lo so benissimo ragazzi ma le fatiche che tu fai nel corso di tutta la stagione sono poi fatiche che ti ritrovi anche nelle altre competizioni e se tu hai fatto uno sforzo pari ad X in determinate competizioni poi quelle fatiche, quegli sforzi te li ritrovi anche nell'altra competizione dove dovresti magari overperformare perché è quella dove di fatto i risultati dipendono esclusivamente da te e non dall'extracampo ma te li ritrovi anche lì e allora ragazzi permettetemi comunque di riprendere le parole di Allegri che ha usato anche lui veramente in questa intervista questa sera nel post partita ai microfoni di Dazon cioè cerchiamo non cerchiamo delle giustificazioni perché siamo la Juventus e la Juventus è abituata a vincere la Juventus deve cercare deve provare in tutti i modi di andare oltre a questi alibi a queste giustificazioni ma un po' di attenuante ragazzi questa squadra se li merita e un po' di attenuante questa squadra gliele dobbiamo concedere perché obiettivamente parlando ragazzi se io penso se io penso alla sensazione che ho avuto io in macchina che non c'evo nemmeno voglia di mettermi sul divano con la birra e con gli amici a vedere la partita io non mi immagino i giocatori ragazzi e non mi immagino i giocatori come si presenteranno al campo i prossimi giorni nei prossimi dieci giorni per chiudere la stagione non oso immaginare e allora l'unica cosa che chiedo l'unica cosa che chiedo e poi dopo ci saranno tutti i discorsi ripeto nelle prossime settimane per quello che sarà il futuro della Juventus con delle scelte che sono molto delicate ragazzi perché la scelta del direttore sportivo sancisce la tipologia di progetto che la Juventus vuole riprendere per rifondare questa Juventus e allora si tratta di scelte di un'importanza vitale per questa società sportiva vitale molto più dell'allenatore molto più dell'allenatore e le prossime settimane saranno dedicate a questo ma faccio veramente l'appello di Allegri lo so che lo faccio allo vuoto perché mi ascoltate voi e non chi di dovere a chi rivolgo questo messaggio ma mettiamo fine veramente a questa a questo circo mettiamo fine veramente a questo processo mettiamo fine veramente a questo modo anche di di operare di andare ad intaccare ad influenzare ad inficiare veramente il lavoro della Juventus e il lavoro degli altri fateci sapere di che morte dobbiamo morire ma fatecelo sapere poi saranno cazzi nostri poi saranno cazzi nostri ma sono anche convinto che non appena noi avremo la certezza di quello che ci aspetta che giochiamo in B che giochiamo in A che giochiamo la Conference che giochiamo la Champions che non giochiamo nulla io so per certo ragazzi che da quel momento lì allora diventeranno anche cazzi loro perché a Juventus è sempre stata questa roba qua io so per certo che ci andremo a riprendere tutto quanto con gli interessi che ci andremo a riprendere che ci andremo a riprendere